buongiorno dolcezze allora oggi voglio farvi un video creazioni e sarà tutto a tema maioliche perché perché ultimamente insomma mi era tornata voglia di mettere di nuovo mano alle paste polimeriche e quindi ho fatto qualche cabochon e il tema principale di questi cabochon appunto sono tipo le mattonelle le maioliche e mi ricordano anche un po non so la grecia vi faccio vedere alcuni cabochon che mi sono avanzati nel senso che per il momento non ho utilizzato per le creazioni per farvi capire un po il tema questi sono i cabochon che mi sono per il momento avanzati questi sono i miei preferiti di quelli rimasti perché mi piace da morire questo disegno e l'abbinamento blu e bianco questo si devo dire che il mio preferito sono semplicemente verniciati con un lucido non utilizzo la resina perché non ho un buon rapporto con la resina e non voglio neanche riniziare questa relazione perché tanto non mi vengono mai bene come come vorrei mi rimangono delle delle macchiette sopra tipo un po opache rispetto al resto che non so se un problema di umidità un problema che mescolo poco la resina insomma vabbè ho avuto un sacco di problemi tanto ormai di resina me ne è avanzata tanto così nella scatola quindi vabbè si posso fare un altro tentativo ma penso comunque che poi non la riacquisterò più per il momento mi trovo bene con questo lucido e continuerò ad usare questo ho fatto due dimensioni sono questa più grande questa più piccina che messi vicino insomma si vede la differenza e poi questa forma praticamente era una mattonella unica che poi io ho tagliato in due per avere questi due rettangolini questi sono quelle che mi piacciono un po meno come disegno tra questi qua rimasti non so perché non non mi fanno impazzire sono fatti con la tecnica dei cabochon serigrafati io vi rimando sempre al video di manipolarte qua su youtube cercatela perché ha fatto lei appunto i video dedicati a questa tecnica adesso vi faccio vedere le creazioni che appunto ho realizzato con questi cabochon allora un paio super iper semplici che sono questi sono semplicemente dei rombetti a perno il disegno è questo molto carino mi piace un sacco questo questa mattonellina e le piattine sono quelle credo cotton di filincanto e vabbè il retro sono proprio così semplici semplici con il perno ecco qua anche l'altro e rivestiti in ultra suede poi sempre sul semplice questo è l'altro modellino che ho fatto è molto particolare cioè semplice ma un po' particolare con questa questa decorazione con i biconi laterale praticamente rimane a lobo però poi scende giù all'orecchio non è proprio piccino a lobo però comunque mi sembrava un po' carino è una forma un po' diversa dal dal solito poi passiamo invece agli orecchini con le maioliche un po' più grandi allora i primi proprio primi che ho realizzato sono questi che mi piacciono da morire questo è il cabochon è nella dimensione un po' più grande cioè nella dimensione grande come questo vedete e i fili sono uno di filincanto questo qua bianco e poi l'altro è di hobby perline è un blu di hobby perline ho voluto lasciare insomma il modello molto semplice visto che il cabochon era già abbastanza decorato quindi non ho fatto due o tre moduli ho fatto solo uno decorato abbastanza perché comunque qua ci sono tutte le 8.0 le perline cieche più o meno grandi però insomma ho voluto lasciarlo abbastanza minimal e l'ho impreziosito con questo perno che ha vediamo se lo mette bene a fuoco che ha questo chaton swarovski da 8 mm il colore è bellissimo ma purtroppo non mi ricordo il nome della colorazione altrimenti ve lo avrei detto è veramente veramente bello il perno è fatto in questo modo quindi poi rimane il cristallo a lobo e l'orecchino pendente e questi sono appunto gli orecchini questo è il retro sempre in ultra sweet poi sempre nella dimensione grande ho realizzato questi però con tutt'altra colorazione come vedete questi sono sul verde menta perché sto un po' in fissa in questo periodo questa maiolica mi piace tantissimo questo disegno qui praticamente il modello è il solito identico di prima l'unica differenza è che qua ho messo questa specie di goccina non è proprio a forma di goccia ma non saprei come definirlo questo ovalino di vetro cieco sempre le 8.0 verde menta e sempre il perno con lo chaton swarovski da 8 mm questa è nella colorazione mint green bellissima questa colorazione la adoro i fili sono uno bianco e uno verde menta non so se dal video si riescono a distinguere ma dal vivo si nota la differenza è molto tenue perché comunque il verde menta è un colore veramente veramente tenue è di bead perless il verde menta mentre l'altro è sempre la solita piattina di fili incanto e anche questo è il retro degli orecchini in ultra suede bianco poi l'ultimo paio invece che vi mostro per il momento ho fatto solo questi con i cabochon sono questi che mi piacciono un sacco sono un po' più piccolini perché sono fatti con i cabochon più piccini quindi questi qua vedete la differenza insomma un pochino c'è rispetto agli altri e questi sono tutti sul tono dell'azzurro perché dentro c'è una biancina non so se sembra bianca del video ma in realtà è azzurra chiara è quella un po' cangiante di bead perless che non ho ancora capito se mi piacciono oppure no però alla fine il risultato finale almeno in questo orecchino mi piace questa volta ho voluto fare praticamente il solito modello però variare facendoli un po' così speculari da un lato solo l'azzurro e dal lato solo il bianco che poi ho invertito dall'altra parte qua ho messo invece una goccina pendente per renderli un pochino più lunghi visto che comunque il modellino era più piccino sempre i cristalli ciechi e sempre il nostro perno Swarovski da 8 mm anche questo azzurro è meraviglioso ma non ricordo il nome della colorazione perdonatemi ma li ho acquistati comunque tutti questi shaton Swarovski da Valentina Davino su facebook se vi possono interessare contattatela che credo ne abbia ancora alcuni da vendere insomma questa era tutta la mini collezione che ho fatto con le maioliche sì non sono tanti però insomma volevo vedere se piacevano e non volevo fare tantissimissimi pezzi ecco comunque mi sono avanzati ancora qualche cabochon quindi ci sta che farò anche dell'altro detto questo vi saluto spero che vi siano piaciuti magari lasciatemi un commentino vi ricordo di cliccare sulla campanellina vicino ad iscrivers vicino alla scritta iscriviti per ricevere tutte le notifiche dei miei nuovi video ovviamente se vi interessa averle detto questo vi saluto vi mando un bacione ciao